Ehi, come va? La squadra è riunita all'ingresso principale. A quanto pare si sta andando per una spedizione nella foresta. Ehi, come va? Pronto a partire? Qui nella foresta antica è comparso un leggiana, ma al momento ne ignoriamo le cause. Ho raccolto le testimonianze di chi lo ha avvistato. Seguimi! Ecco delle tracce. Non c'è dubbio. È qui. La foresta non ti sembra strana oggi? Proseguiamo. Abbiamo finalmente completato le indagini sulla traversata degli anziani. È strano. Ma anche eccitante. Mi chiedo cosa ci riservi il futuro. C'è una calma irreale. Che succede? Non vola una mosca? Dove sono tutti gli uccelli? Forse qualcosa li ha spaventati? Le tracce puntano a ovest. Chissà se anche la prossima indagine richiederà tutto questo tempo. Beh, comunque non ho intenzione di andare via di qui prima di altri dieci anni. L'indagine non può considerarsi completa se non osserviamo il fenomeno con i nostri occhi. E a quanto pare la prima flotta la pensa esattamente come me. Non si vede nemmeno un aptonot. A quanto pare stiamo andando nella direzione giusta. Deve essere più avanti. Ora che ci penso... Forse avrò persino del tempo per condurre la mia personalissima indagine. È uno dei motivi che mi ha convinto a venire nel nuovo mondo. Le tracce puntano a ovest. Oh, a proposito. Ancora non ho idea di cosa abbia spinto te a venire qui, collega. Un attimo. Forse ci siamo. Me lo racconterai un'altra volta. Anche qui, tracce di Legiana. Dei Legiana! Ehi, lo senti anche tu. Ma è il vento. No, non può essere. Ma che succede? Ora che siamo tutti qui, possiamo cominciare. C'è un argomento molto importante del quale vorrei parlarvi. Per questo motivo ho deciso di riunire i comandanti di ciascuna flotta e i membri della squadra. A questo punto sarete già al corrente dei Legiana che sono stati visti migrare in massa. L'analista ora ci fornirà maggiori detti. Certamente. La specie dei Legiana non è nota per le migrazioni su lunga distanza, né tantomeno. Questa improvvisa attraversata dell'oceano è un... Potrebbe trattarsi di un qualcosa che ha iniziato a influenzare gli... O forse sono stati spinti da un cambiamento nel loro habitat. Oltreoceano, eh? Eh, comandante? Ah, solo un piccolo deserto. Ah, c'è bisogno di chi è il tuo... Il tuo sguardo mi dice che hai... Non è il solo, comandante. Tutti noi di recente siamo un po' stanchi... Bene. Ordino quindi di concentrare tutte le risorse disponibili sul... Ora si ragiona! Signore, mettendoci all'inseguimento dei Legiana, forse saremo in grado di scoprire un nuovo punto d'attacco. Persino una nuova isola! Potremmo andare via, ma... Che ne dite di qua? Già. Vai, allora è deciso. Sceglierò... Mi serviranno delle braccia dal centro scorte e dalla divisione tecnica. In quanto a voi due, dite alla vostra flotta di prepararsi. Ultima... Siamo all'oscuro di quello che ci attende lì fuori, ma non è il momento di esitare. Buona fortuna a tutti e che la stella di Zaffiro vi illumini il cammino. Rompete le righe! È il momento di una nuova grande avventura. Ritorna al consiglio quando te la senti. Molto. Mio. Oh, hai notato deve aver sopprovato all'inizio di qualsiasi manderò un film. Si tratta di un caso davvero singolare. Sono curiosa. Capisco. Credo di aver compreso la situazione. Tuttavia, non sono ancora sicuro sul prossimo passo. Per sicurezza non dovremmo avvicinarci troppo. Nessuna delle sue caratteristiche sembra essere simile a quelle delle normali creature viventi. Intendi forse dire che potrebbe provenire da un altro mondo, ultimamente? Credo che saremo in grado di trovare una risposta nella foresta antica. Ci sono troppi fattori che vanno oltre le nostre conoscenze. Pare proprio che ci vorrà del tempo per venirne a capo. Se solo ci fosse qualcuno che sapesse esattamente di cosa si tratti. Ci risiamo. Maledetti portali. Poi si chiedono perché li detesto. Aspettate. Non mi considerate un amico? Dove mi trovo? Nel nuovo mondo. Base di ricerca della terza flotta per l'esattezza. E tu saresti? Geralt di Rivia. Witcher. Stavo inseguendo un mostro nella foresta quando... Beh... Quando sono stato trasportato qui all'improvviso. Dove essere stata una magia condormi in questo mondo. Ah, grandioso. Magia. Nel nostro mondo. Mi sembra quasi di essere finita in una favola. Faccio fatica a credere a ciò che dici. Ma dopo quello a cui ho assistito, non penso di avere altra scelta. Un Necker. Ma guarda. Riconoscerei quei buttimosi ovunque. Ma da dove è saltato fuori? Di certo dalla foresta antica. Forse lì ci sono indizi per capire perché tu e quel Necker siate finiti da queste parti. Tuttavia, temo che le creature di un altro mondo siano oltre la portata della commissione di ricerca. Sentite. Siete al caso che stiate parlando con uno del settore. Dunque... Potrei occuparmi io del vostro problema nei boschi. Al giusto prezzo, ovvio. D'accordo, contiamo su di te. Bene, facciamo il punto della situazione. Questa creatura è un Necker e non appartiene al mostro. Il Necker è stato trasportato in qualche modo dal suo mondo alla foresta antica. E infine, il mostro che sembra essere la causa di tutto questo è ancora... Probabilmente è stato trasportato anch'esso da un portale. Ed è finita in questa... Dovremmo dare un'occhiata. C'è altro che dovrei sapere. Ogni informazione può essere... Ora che ci penso, ultimamente ci è stata segnalata la presenza di un numero in soli... ...sono dei volatili dalle piume nere. Che si ci va... Uccelli spazzini? La commissione offrirà il suo supporto per quanto possibile. Se ti capita di incontrarli nella foresta, non esi... Grazie. Normalmente è a te che affiderei un incarico del Venere. Ma stando alla situazione corrente, forse è meglio lasciare tutto nelle mani del Witch. Ciò non vuol dire che siete autorizzati a starvene lì con le mani in mano. Assicuratevi che il Witch è... Sì, signore. Ci penso io, cacciatore. Vado subito ad occuparmi. Vado subito ad occuparmi.